Buongiorno, buongiorno agli amici di Ciocomo, vi facciamo vedere in anteprima quello che è il nuovo hub vaccinale di Ilario Fiere che è proprio all'esterno della struttura dove fino a ieri si sono fatte le vaccinazioni, è come vedete una enorme tensostruttura che è ormai pronta, completata con noi, c'è Roberta Somaschini, una delle responsabili di questo hub di Ilario Fiere, di ASS Tilariana. Roberta, buongiorno, allora facciamo vedere ai nostri telespettatori com'è questa nuova struttura che di fatto rispecchia quella che... Sì, sì, replica praticamente quello che stavamo facendo nel paviglione C dell'arco di Ilario Fiere, abbiamo una sala d'attesa pre-accettazione che stiamo allestendo, per riallestire, abbiamo sei postazioni per le accettazioni, dove una comunque viene dedicata per i pazienti fragili, gli utenti fragili, quindi diamo una corsia preferenziale e poi una volta soppassata l'accettazione abbiamo un'altra sala d'attesa. La facciamo vedere, ecco questa è l'accettazione vera e propria, dove appunto vengono registrati i pazienti, le persone che vengono a fare il vaccino, sono già prenotate, però vengono appunto certificate. Questa è la sala dove aspettano, vedo Roberta. Attendano di essere avvicinati, sì. Perfetto. Tutta la gestione è in mano alla protezione civile su questa linea di attività. Eccoli qui e va detto grazie anche a loro perché... Assolutamente, sì, sarà stato impossibile gestire in autonomia questi grandi numeri di utenti da vaccinare, vengono chiamati. Ecco, lo vediamo, questa aspettano e queste sono invece le linee vaccinali. Adesso ve ne facciamo vedere un paio. Roberta, sono 24. Sono 24 linee vaccinali, quindi siamo stati in grado di replicare completamente quello che facevamo nel padiglione C, quindi l'offerta ai cittadini è la medesima. Abbiamo proprio tutta un'organizzazione dove praticamente del fatto l'allestimento. Questa è una, ve ne facciamo vedere una, ecco, questo è proprio la cabina dove poi effettivamente avviene la vaccinazione. Sì, viene inoculato il vaccino. Sì, terminato il vaccino, vengono fatti accomodare in un'ulteriore sala d'aspetto. Che è sullo sfondo. Che è sullo sfondo. Anche in questa in fase di allestimento. In fase di allestimento, sì, sono più o meno 100 posti a sedere, quindi comunque con un'altra rotazione a 15 minuti per ogni utente. Ecco, vedete, c'è praticamente, ecco, è una situazione ancora in allestimento e che mancano ancora qualche, manca ancora qualche ora, però da questo pomeriggio, vero? Sì, assolutamente. Alle due di oggi sarà tutto pronto e saremo pronti per iniziare l'attività, sì. Un'altra cosa che va detto anche, sono rimasto anche colpito dal fatto che quando si entra qui il clima è veramente molto, cioè, accoglierci. Sì, è molto luminoso. Non pensate di trovare una struttura fredda, assolutamente, perché qui veramente... No, 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 c'è il riscaldamento, è garantito, assolutamente. Ci sono tutti i comfort necessari per svolgere questo tipo di attività. Chiudiamo, Roberta, andiamo magari verso il fondo e chiudiamo con il ricordare una cosa. Allora, chi può venire da questo pomeriggio qui al nuovo hub, chiamiamolo così, di Lario Fiere, dove avvengono poi i vaccini veri e propri, appunto. Sì, tutti gli utenti che si sono prenotati attraverso il portale regionale e tutti gli auto presentati aventi diritto sulla base delle indicazioni regionali che sono state date. Perfetto, questo ecco, e alla fine abbiamo fatto il percorso. Queste sono le varie varie linee vaccinali e questa è la zona in allestimento, ovviamente, dove le persone attenderanno una volta fatto il vaccino e poi l'uscita. E poi verranno indicati, c'è l'uscita dedicata, che li porta direttamente al parcheggio. Grazie, ovviamente. Anche al parcheggio sono stati dedicati dei posti riservati ai disabili in modo tale che siano assolutamente confortevoli l'entrata. Ecco, ovviamente, per le persone fragili ovviamente o con disabilità c'è un'attenzione particolare, questo è molto importante. Assolutamente, sì. Vi abbiamo fatto vedere quindi la nuova struttura qui all'Ario Fiere. Si riparte sostanzialmente, Roberta, c'è solo uno spostamento, no? Assolutamente, sì. A pieno ritmo. Per consentire ovviamente all'Ario Fiere di andare avanti con la loro attività. Va bene, buon lavoro. Grazie, Roberta. Grazie a voi, grazie a tutti. Salve.